Allora ragazzi sono Simon38 e andiamo a fare un gameplay di Sonic Dash Allora ho già fatto qualche partita per vedere com'era un po' il gioco Adesso andremo a giocare ancora un po' e vediamo com'è Così ve lo faccio a vedere anche a voi e se vi piace lo potete scaricare Allora qua ci sono dei premi da prendere Guarda gira la ruota E' ottimo L'abbiamo preso Hai giunto un computer Vivo Allora Torniamo indietro Seleziona E vediamo se riusciamo a prendere monete Torniamo 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 No, non ho preso, oh cavoli, ho perso, ma cerchiamo di, ottieni, riproviamo ragazzi. No, non ho preso. Oh cavoli, devo saltare. No, non ho preso. Non ho preso, non ho preso, non ho preso. Poi c'è il boss ragazzi. Oh cavoli. Ragazzi non possiamo continuare. No, non ho preso. Speriamo a sconfiggere il boss, perché mi piacerebbe sconfiggere il boss. No, non ho preso. Speriamo a sconfiggere il boss. 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 Speriamo a zona del boss. Speriamo a sconfiggere. Specialmente in un uomini. non ho capito come si gioca ragazzi però è un bel gioco grazie Allora, ragazzi Cerchiamo di fare l'ultimo Adesso vediamo qua cosa ci danno Allora Qua ci danno Altri potenziamenti Ragazzi Qua ragazzi Siamo a 10 minuti di registrazione Continuiamo Facciamo l'ultima gara Sulla spiaggia Sulla spiaggia Sulla spiaggia Sulla spiaggia Continuiamo Sulla spiaggia Nooo, abbiamo perso ragazzi Allora, ragazzi Non possiamo più continuare Perché non abbiamo più Però abbiamo preso Un po' di cose Allora, ragazzi Potenziamo il personaggio qua Perché si può potenziare il personaggio Ah, poi ci sono altri personaggi Da sbloccare C'è questo Da sbloccare Allora, ragazzi Cerchiamo di fare L'ultimo Giro Perché si ha E poi Ci fermiamo qui L'ultimo giro E poi ci fermiamo qui Allora, ragazzi Allora, ragazzi Allora, ragazzi L'abbiamo perso Allora, qua Poi possiamo continuare Anche qui per due L'abbiamo perso Non ce l'abbiamo fatta Orta vacca E ragazzi Vi ho fatto vedere tutto Quello che c'era da vedere E noi Ci vediamo In un prossimo tutorial Di gioco Ciao ragazzi Alla prossima Allora, ragazzi